Aveva aggredito la ex compagna la notte di Capodanno. Adesso per un 37enne è stata disposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con contestuale applicazione del braccialetto elettronico anti-stalking. Le indagini sono state portate avanti dalla squadra mobile della questura di Arezzo diretta dal dottor Sergio Leo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 37enne, dopo aver trascorso la notte di San Silvestro a casa di Amici, una volta rientrato in abitazione, avrebbe picchiato l'ex compagna per motivi di gelosia. La donna, soccorsa dai sanitari, è stata ricoverata per dieci giorni all'ospedale San Donato di Arezzo. In seguito all'aggressione, la donna aveva riportato la frattura delle ossa nasali e varie fratture alle costole, episodio che secondo le indagini non sarebbe stato isolato nel tempo. Per questo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, al 37enne è stato notificato il divieto di avvicinamento alla donna e applicato il braccialetto elettronico anti-stalking, un dispositivo direttamente collegato con la sala operativa della questura di Arezzo che permetterà il monitoraggio in tempo reale dei movimenti dell'uomo, segnalando qualsiasi tentativo di avvicinamento alla vittima delle aggressioni.